Che cazzo mi ha risposto questo? Ma i capelli rosa? I capelli rosa? Sto cazzo eh! Un cazzo! Un cazzo! Un cazzo spento solo sul bambino. Un cazzo li percorchi! a te cecchino di truccaria di tutta ma tu che classe usi? ma esso quando un fucile d'assalto ma sai che non ho visto quello boh l'unica arma con cui mi trovo bene e comunque lo sai che al blitz con faranno un torneone di overwatch e i vincitori si guadagnano un milione di euro andiamo Lucio no andiamo a farci spaccare il culo ma ti rendi conto guadagnarsi tutti quei soldi perché sei bravo a giocare andiamo Lucio tu con la mira che c'hai se lo giocavi overwatch magari adesso eri nel team italiano che ne sai che mira c'hai la mira della pannocchia Lucio su Gears un bel ma non è solo mira quel gioco comunque non è solo mira eh però tu eri avvantaggiato la mia la mia la mia la mia la mia la mia Ah ma dove minchia sono tutti i nemici po' dispersi nei meandri del culo loro? Perchè? Coglione. Quello è sempre là. Ah figa. Nooo ho sparato. come va beh Grazie a tutti. No, no, no. Arca 2. Mi piace una mira del culo, altro che mira buona, Lucio. Oh, ha rotto il cazzo, suo figlio di puttano. Fio della merda. Ma che mira spettacolare. Ma come mancarò un nemico che lo era morto? La figa di sua sorella. No, 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 no. No, sempre io voglio con questa bomba del cazzo che lanci con me un pinoffi di merda Bastardo E' bravo l'astrono che... ... ... ... ... oh